Dal punto di vista vegetale, soprattutto per le donne post menopausa, è fondamentale l'introduzione di fitoestrogeni che possono essere introdotti attraverso la soia, il tofu, ma anche i semi di lino, che sono un veicolo eccezionale di fitoestrogeni e tutto ciò può essere utile nel combattere i sintomi tipici della menopausa, come le vampate di calore, ad esempio dovute al tipico calo estrogenico. Per la salute della donna in generale, però, altri alimenti possono garantire importanti nutrienti, tra cui il ferro, per cui non mi lascerei mai sfuggire, i legumi 3-4 volte a settimana almeno, e tra questi lenticchie e fagioli che apportano grandi quantità di ferro, che è importantissimo per le donne, e di folati. I folati sono fondamentali per la funzionalità ovarica e per la salute cardiovascolare, soprattutto nelle donne, e i folati sono riscontrabili nella verdura a foglia, quindi spinaci, bietola, cicoria, rucola. È fondamentale un apporto corretto, soprattutto nelle donne, di ferro e di folati. E in tutto ciò questi alimenti aiutano a raggiungere un adeguato fabbisogno.